carissimi amici di reggita della pace tv l'amore dei santi rimanga sempre con tutti voi oggi 10 agosto la chiesa celebra la memoria di san lorenzo nacque ad osca lorenzo in spagna nel 226 da nobilissimi e santi genitori tanti furono i duni che ricevette nei sacramenti del battesimo crescime di eucarestia che sembrò prevenuto dalla grazia mentre era ancora bambino sostenne sempre da ogni divertimento puerile e fu a tutti modello di docilità e santo innocenza ricevuta la prima istruzione in patria passò a saragozza per apprendere lettere ed in questa celebre università i suoi progressi furono sì rapidi e meravigliosi che era ritenuto il migliore di tutti gli allievi in questo tempo il vescovo di quella città vedendo in lui un tal candore di vita gli conferì gli ordini dell'ostiariato dell'ettorato ed esorcistato trovandosi nella penisola iberica il futuro papa sisto secondo allora arcidiacono della chiesa romana avendo udito parlare delle virtù di lorenzo lo condusse seco a roma ove personalmente ebbe cura della sua formazione all'età di 17 anni per il suo progresso nella scienza e nella virtù fu dal pontefice fabiano ordinato accolito sei anni dopo su diacono e quindi diacono aveva 27 anni nel 258 essendo stato eletto alla cattedra di pietro sisto secondo lorenzo divenne arcidiacono della chiesa romana carica che corrisponde all'attuale dignità cardinalizia ma mentre la chiesa lavorava e si espandeva ognora più fra i pagani specie per l'infocata predicazione di lorenzo si scatenò la persecuzione di valeriano che al dire di san dionisio fu delle più terribili lorenzo fu imprigionato e torturato poco tempo dopo anche san sisto venne preso e condannato al carcere mentre il pontefice veniva barbaramente trascinato dalla soldatesca gli si fice incontro lorenzo che col volto bagnato di lacrime incominciò ad esclamare dove vai o padre senza il tuo figlio per dove ti incammino santo sacerdote senza il tuo diacono sisto gli rispose io non ti lascio né ti abbandono o figlio ma te spettano altri combattimenti dopo tre giorni mi seguirai prendi le ricchezze di tesori della chiesa e distribuiscili a chi tu meglio credi lorenzo fece dirigente ricerca di quanti poveri ecchieri ci poté trovare nei quartieri di roma e distribuì loro tutte le ricchezze poscia salutati per l'ultima volta i cristiani si portò da valeriano che già l'aveva fatto chiamare e dall'intimazione di recargli i beni della chiesa promise che entro tre giorni gliele avrebbe mostrati percorse le vie della città raccolse un gran numero di poveri e ricondusse dicendo ecco qui i beni della chiesa ma quell'uomo irritato gridò come hai tu ardito beffarti di me io so che tu brami la morte ma non credere di morire in un istante poiché io prolungherò i tuoi tormenti ordinò infatti che lorenzo fosse posto su una graticola di ferro rovente ed arrostito lentamente ma nel cuore del martire ardeva un incendio mermangiore quando fu bruciato da una parte il carnefice ordinò che lo rivoltassero ed avendo gli aguzzini ubbidito il martire con volto sereno disse ora potete mangiare perché la mia carne è già cotta abbastanza nuovi insulti uscirono dalla bocca del prefetto ma il martire con gli occhi rivolti al cielo si offriva al signore invocando sul roma la divina misericordia per incoraggiare ancora una volta i cristiani presenti tra questi spasimi spirò la sua grande anima era il 10 agosto 258 bene carissimi per oggi terminiamo qui il nostro consuito appuntamento pace e gioia a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti